Qua si preparino nel prossimo incontro a Datami 6, Re Nogam e Armao Matteo. A Datami 2 si preparano Pirola e Armao Matteo. Sul Datami Pirole Cittadini. A Datami 4 si preparano Pirola e Rossi Matteo. Si preparano a Datami 5, Paparella Pinto. Prossimo incontro a Datami 1, Camilleri, Daniele, Popa, Pintrum. Ricci e Rene. Vai Matti. Atleta rosso. A Datami 5, Pinto. Atletami 4, Verolla, Rossi Matteo. Lavora, lavora, lavora! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira Matti, continua a tirare! Vai Matti! Vai Matti! Vai Matti! Hai Matti! Vai Matti! chiedi la manica muovi Matti, muovi o no vai Matti vai vai Grazie. Vai, Matti. tieni la manica muovi Matteo vai Matti si preparano adattami 5 Glatt, Bonzano adattami 4, Svon, Amato si preparano adattami 4 Rebetto, Rebetto, Lodge vince Cittadini ricordo adattami 4, Rebetto, Lodge vince Cittadini di nuovo si preparano si preparano si vede l'acqua cammineri copa si, si, si bravo va bene vai Matti 15 secondi cittadini 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 Grazie a tutti.